Chiusura in crescendo per il Forum delle Culture di Napoli, che si concluderà il 9 dicembre con la consegna delle chiavi della città al maestro Riccardo Muti, diplomato in pianoforte al Conservatorio San Pietro a Maiella. Dopo una prova aperta, riservata agli allievi del Conservatorio, Riccardo Muti terrà un concerto con l'orchestra giovanile Cherubini. Se da un lato si preparano i bilanci di questa esperienza, punto d'arrivo di un processo tortuoso e non privo di difficoltà, dall'altro il programma degli ultimi giorni riserverà alcune occasioni preziose, presentate questa mattina al PAN. Fra queste l'installazione di Peter Greenaway, bombe atomiche sul pianeta Terra a Palazzo Reale, e la tempesta di Shakespeare nella versione di Edoardo De Filippo con le marionette della compagnia Carlo Colla. Il Forum delle Culture si conclude con una serie di eventi, uno dietro l'altro, di grandissimo spessore nazionale e internazionale. Sharif Kasnadar, che è un grandissimo intellettuale, fondatore della Maison delle Cultures du Monde, ha curato per noi un programma che consentirà di avere a Napoli artisti come Victoria Chaplin, ma anche Peter Greenaway, Studio Azzurro, Paolo Rossi, e per la prima volta integralmente in città la tempesta di Edoardo nella versione dei fratelli Colla con i burattini dei fratelli Colla. Poi la festa di piazza con Mashrou Leila, il gruppo libanese che oggi sta andando per la maggiore perché giustamente dobbiamo accontentare gusti diversi e pubblici diversi. Altre belle, ricche, intense giornate di cultura, di socialità, di vita comunitaria che in un momento di crisi credo sia un segnale molto importante per la città. E poi voglio ricordare che nelle prossime settimane, anche dopo la giornata del 9, di chiusura formale del Forum, sono in corso a Napoli delle grandi mostre. La grande mostra sui tesori angioini, unica ed irripetibile nel Museo del Tesoro di San Gennaro. E poi nel complesso monumentale nel convento di San Domenico Maggiore credo la più bella mostra sulla scultura che si sia mai fatta a Napoli. Tutti gli eventi del Forum sono gratuiti e consigliata e in qualche caso necessaria la prenotazione.